Nel video di oggi voglio partire con una notizia molto importante, infatti sappiamo che Vasseur ha chiesto degli ingegneri da Renault che non scontino il Gardening Live, famoso in Formula 1, se ne è parlato tanto c'è chi è pro e chi è contro e andiamo a vedere anche la risposta di Luca De Meo che è il patron di Alpine, se vogliamo il boss interno ad Alpine e vediamo anche cosa ha richiesto Vasseur quindi andiamo a vedere tutto nel dettaglio, andiamo a vedere anche la situazione in casa Mercedes che l'abbiamo lasciata un po' da parte ma adesso la approfondiamo, andiamo a vedere anche le varie soluzioni nel mercato, cosa ci dobbiamo aspettare per il 2026 prima di iniziare vi ricordo ovviamente di lasciare un like, di iscrivervi, attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale ogni settimana andiamo a approfondire tutte le notizie tema auto e Formula 1 e vi dico anche la mia opinione in merito ditemi nei commenti secondo voi se ha ancora senso in Formula 1 il gardening leave per i vari ingegneri, per i tecnici che lavorano nei diversi team di Formula 1 oppure se dovrebbe essere tolto e ditemi anche cosa ne pensate della situazione in casa Mercedes per il 2026 ma anche per questa stagione, per lo sviluppo che devono portare allora iniziamo subito parlando di Vasseur che ha chiesto a Luca De Meo di avere degli ingegneri che arrivano da Renault, dal PIN a Ferrari e senza che scontassero il gardening leave e quindi senza fargli aspettare un periodo di tempo in cui non lavorano per nessun team infatti com'è che funziona il gardening leave? Lo spiego brevemente per chi non lo sa il gardening leave è quel periodo di tempo in cui quando tu ti dimetti da un team precedente non lavori per nessun team e aspetti lavorare per il team successivo questo periodo serve per evitare una fuoriuscita di informazioni sensibili che vengono dal team precedente e quindi in quel periodo tu sei fermo sostanzialmente però la vera domanda è ancora senso il gardening leave in Formula 1? probabilmente no, secondo me no perché ormai vediamo che ci sono tanti lavori che si possono fare da remoto e le informazioni comunque circolano anche senza l'uso del gardening leave quindi il gardening leave non è un disincentivo per evitare una fuoriuscita di informazioni e l'abbiamo visto post-covid, l'abbiamo visto anche con tanti cambiamenti al vertice perché adesso dobbiamo fare prima di analizzare queste situazioni in Ferrari dobbiamo fare un passo indietro consideriamo che in Formula 1 dalla fine del 2022 in poi i vari team, 8 team su 10 hanno cambiato il team principal e sono tanti e ogni nuovo team principal vuole anche dei tecnici diversi da quelli precedenti che lavorano sui nuovi progetti dei vari team l'abbiamo visto anche con Vassar che ha voluto nuovi ingegneri in Ferrari per esempio lo stesso Loix Serra che è arrivato il primo ottobre a lavorare ufficialmente a Maranello ma è stato preso all'inizio di quest'anno, anzi all'inizio dell'anno scorso scusate e quindi è una figura che ha dovuto scontare il gardening leave da Mercedes per evitare una fuoriuscita di informazioni ma è davvero necessario? questa è la vera domanda il gardening leave era nato anche per salvaguardare se vogliamo il lavoro dei dipendenti, degli ingegneri che lavorano per i vari team e questo è sacrosanto per evitare che magari un team cambiasse tecnici in un periodo breve di tempo però bisogna capire se questa mossa serve più a tutelare i dipendenti oppure se serve a tutelare le informazioni che vengono divulgate perché se questa è la seconda ipotesi beh non serve così tanto in questo momento perché alla fine le informazioni si sanno comunque detto questo, avendo fatto questa anteprima voglio adesso parlare della situazione in casa Ferrari infatti Vassor ha richiesto degli ingegneri a Renault e Alpine che non scontassero il gardening leave quindi che entrassero subito a lavorare in Ferrari Luca De Meo ha accettato perché ha anche detto una famosa frase che adesso voglio leggere insieme a voi non andremo a imprigionare i nostri ragazzi inteso che non facciamo fare il gardening leave ai nostri ragazzi se vuoi andare a lavorare altrove possono andare subito questa è la frase di Luca De Meo probabilmente c'è anche un accordo sotto tra Vassor e De Meo per avere magari dei vantaggi da parte di Alpine e dei vantaggi da parte di Ferrari fatto sa che bisogna vedere adesso quali saranno gli ingegneri che vengono da Alpine che vanno a lavorare in Ferrari perché adesso c'è stata da poco l'uscita di Renault dalla Formula 1 perché Alpine dal 2026 utilizzerà i motori Mercedes e vi faccio vedere questa grafica che è abbastanza allarmante le vittorie dal 2019 in poi vediamo che Renault ha conquistato solamente una vittoria nel 2021 mentre gli altri motoristi vediamo Honda e Red Bull Powertrains che ha conquistato 55 vittorie Mercedes ne ha conquistate 48 Ferrari ne ha conquistate 11 negli ultimi 5 anni mentre Renault solamente una vittoria quindi questo ha contribuito sicuramente a Renault a lasciare la Formula 1 come motorista perché non aveva più interesse nel continuare però se arrivano degli ingegneri da Alpine in Ferrari spero non arrivino dalla parte motorista del team perché altrimenti ci sarebbe un po' da preoccuparsi questa è un po' una battuta però vedremo un po' quali saranno i nuovi ingegneri che arriveranno da Alpine fatto sa che ci sono anche questi accordi interni e queste dinamiche interne tra i team che chi ha più conoscenza con un altro team può richiedere che quel team eviti il gardening leave sui propri dipendenti ed è un po' un gentleman agreement se vogliamo e vedremo un po' adesso Luca De Meo ha accettato questo accordo con Vassar e con Ferrari quindi c'è questa intesa tra Alpine e Ferrari però sono sicuro che molti di voi diranno sì sono sempre ingegneri nuovi che arrivano in Ferrari quindi forza nuova, risorse nuove e menti nuove ci stanno però arrivano sempre da Alpine non arrivano da top team come potrebbero essere invece Mercedes, Red Bull o altri quindi vengono un po' ridimensionati sempre nella loro importanza non so se anche voi la pensate così ovviamente io prima di sbilanciarmi voglio valutare ogni figura per sé nel senso che anche se arriva ad Alpine potrebbe aver avuto un background interessante e quindi essere utile per Ferrari detto questo voglio farvi vedere una grafica molto interessante anzi prima parliamo delle novità di Ferrari per Austin perché ci sono degli aggiornamenti in merito infatti arriveranno degli aggiornamenti adesso vi faccio vedere con la grafica a Austin arriveranno degli aggiornamenti nuovi che saranno utili per migliorare il bilanciamento della SF24 e quindi Ferrari sta vivendo in questo momento un momento strategico per definire il proprio futuro non ci sarà solo l'ala flessibile che abbiamo visto anche a Singapore ma ci saranno degli aggiornamenti specialmente nella parte iniziale dei canali Venturi sul fondo si pensa anche qualcosa sul diffusore insomma vedremo un po' poi a Austin esattamente cosa porterà Ferrari dobbiamo parlare ora invece della situazione in casa Mercedes prima vi faccio vedere una grafica strabella che ho trovato e volevo condividerla con voi questo è pubblicato da The Race questo è il margine a fine gara di ogni Gran Premio dal vincitore al secondo quindi quanto di stacco c'è stato e quanto ha dominato se vogliamo il vincitore in quella gara vediamo che inizio anno tutte le gare erano dominate da Red Bull con 22 secondi in Bahrain a Jedda 13 secondi vediamo invece in Australia la vittoria di Ferrari con Sainz con 2.3 secondi di vantaggio quindi un margine molto ridotto poi abbiamo Giappone 12 secondi abbiamo Cina 13 secondi insomma a inizio dell'anno vediamo il dominio di Red Bull poi abbiamo iniziato a vedere dal Gran Premio di Miami in poi una vittoria di McLaren quindi McLaren che è tornata là davanti e da lì in poi abbiamo visto una situazione diciamo a metà campionato molto contesa tra i team dove ha un po' vinto Red Bull ma con dei margini molto ridotti un po' vinto Ferrari un po' vinto Mercedes e un po' vinto anche la stessa McLaren poi dalla pausa estiva in poi quindi dal GP d'Olanda vediamo i margini di vittoria di McLaren che sono paragonabili a quelle di Red Bull di inizio anno e questo è molto interessante ci mostra una McLaren che sta vivendo l'era di Red Bull di inizio anno e se vogliamo anche un po' dell'anno scorso vedremo come andranno anche le prossime gare fatto sta che questi sono i margini delle ultime quattro gare con la vittoria a Monza di Leclerc però le altre tre gare dominate da McLaren ci dobbiamo far vedere questa grafica perché ci fa capire bene quanto è forte McLaren in questo momento vediamo anche l'andamento del campionato questo è un andamento con i vari punti vediamo che Vestappen ha 331 punti sta dominando il campionato piloti però attenzione che Norris sta recuperando tanto nelle ultime gare quindi potrebbe mettergli il bastone tra le ruote 279 punti e poi abbiamo Leclerc e Piastri attenzione che Leclerc sta per essere raggiunto da Piastri e rischia la terza posizione in campionato dobbiamo parlare ora di Mercedes partiamo prima dalla situazione mercato piloti così vediamo un attimo com'è la situazione questa foto che ci fa vedere Kimi e Toto insieme vediamo Toto Wolff si è sbilanciato su Vestappen che è un piano che per ora hanno messo un po' da parte infatti la decisione di Toto Wolff di promuovere Antonelli direttamente in Formula 1 in Mercedes senza farlo passare dal canonico percorso Williams e poi Mercedes che ha fatto anche Russell in passato beh ci dimostra che Mercedes punta tanto sul giovane italiano e quindi Antonelli andrà a rimpiazzare Hamilton che invece andrà in Ferrari però ovviamente anche Antonelli stesso ha detto che non si riuscirà a sostituire un sette volte campione nel mondo nel senso che è un pilota talmente forte Hamilton che ha dimostrato tanto in Formula 1 che Antonelli avrà bisogno di un periodo di tempo per abituarsi a nuova macchina al nuovo team avrà bisogno di un po' più di esperienza per poi mostrare il suo pieno potenziale e abbiamo visto anche Toto Wolff all'inizio di quest'anno che aveva fatto pressione per prendere Vestappen dalla Red Bull e portarlo in Mercedes però sappiamo che Vestappen rimarrà in Red Bull per almeno il 2025 poi vedremo un po' come andrà in futuro la promozione di Antonelli è stata dichiarata al Gran Premio di Monza al Gran Premio d'Italia e serve ovviamente per enfatizzare quanto è importante per Mercedes puntare sui giovani e quindi è molto importante come ha detto anche Toto Wolff puntare sulle nuove generazioni dopo l'uscita di Lewis dal team e vedremo anche il futuro di Mercedes soprattutto per i due piloti perché sia Antonelli che Russell sicuramente si giocano il posto per un eventuale arrivo di Vestappen in futuro in Mercedes perché questa cosa si collega tanto ai motori 2026 adesso andremo a vedere anche cosa dice James Wolff team principal di Williams sui motori 2026 ma se il motore Mercedes dovesse rivelarsi effettivamente così forte come si dice nel paddock ovviamente sono tutte supposizioni beh potremmo vedere che tutti gli altri piloti sia quelli in Ferrari in McLaren e anche in Sessa Red Bull vogliono puntare ad andare in Mercedes per avere la macchina che lotta per il titolo infatti andiamo a vedere cosa dice James Wolff a riguardo sui motori Mercedes dice che stanno facendo un lavoro eccezionale per il motore 2026 l'approccio è con tanta attenzione per avere nuove power unit pronte al debutto e ovviamente bisogna vedere anche come andrà sfruttata questa power unit su una macchina che cambierà anche dal punto di vista aerodinamico e c'è un gran gap di performance tra le power unit e dice che negli ultimi anni invece è stato molto appiattito questo gap nel senso che tutti i motori sono molto simili tra di loro perché a livello di performance sono simili in termini di affidabilità sono migliorati negli anni perché Ferrari ci ricordiamo nel 2022 ha fatto un po' più di fatica con l'affidabilità stessa dei motori quindi andava a sacrificare la potenza massima per avere più affidabilità questa cosa qui non si è più vista negli ultimi due anni e abbiamo tutti i team molto vicini tra di loro mentre nel 2026 potremmo vedere dei motori più performanti di altri e quindi delle differenze anche di performance sul rettilineo di velocità di punta di accelerazione anche perché l'utilizzo di un motore elettrico che va a comporre il 50% della potenza beh è tanto fa tanto la differenza sono dei motori completamente nuovi praticamente sappiamo come nel 2014 il Mercedes ha avuto un gran vantaggio nell'era ibrida nuova in Formula 1 utilizzando i nuovi motori ibridi è riuscito a sfruttare quell'onda diciamo per essere dominante faranno la differenza anche sulle power unit e faranno la differenza anche sugli altri team questa è una dichiarazione molto importante a parte il team principal di Williams che sicuramente gioca in casa perché Williams e Mercedes sono team molto alleati tra di loro se vogliamo Mercedes si aspetta di essere il team leader nei motori dal 2026 ma anche Honda e Ferrari stanno facendo i motori molto interessanti ricordo che Honda andrà a fornire i motori a Ston Martin che vuole essere una delle candidate a lottare per il titolo questo è quello che ha detto Alonso voglio lottare per il titolo nei prossimi tre anni e l'obiettivo è anche quello di Ferrari di lottare per il titolo nei prossimi anni specialmente con la nuova era regolamentare dei motori quindi attenzione a questi tre motoristi che sono quelli che probabilmente avranno la meglio e bisogna vedere poi come si comporteranno anche i nuovi arrivati come Audi per esempio vedremo anche Red Bull Power Trains con i motori sviluppati interamente in proprio come si comporterà fatto sta che anche Alex Albon si era sbilanciato sui motori Mercedes per il 2026 e sottolineando appunto il dominio del 2014 come potrebbe ripresentarsi dal 2026 e questo va a cambiare anche il mercato perché se troviamo dei motori 2026 di Mercedes molto performanti tutti i team che utilizzano i motori Mercedes penso a Mercedes stessa Alpine che ricordo utilizzerà il motore Mercedes diventano dei team da tenere sott'occhio per il mercato piloti ah e concludo dicendo anche la mia opinione sui motori Mercedes 2026 secondo me potranno essere competitivi forse anche più della concorrenza vedendo la storia passata i motori del 2014 che è vero erano diversi però i motoristi che lavoravano in Mercedes molti sono rimasti negli anni e quindi l'esperienza il background ingegneristico ce l'hanno e anche sono più forti magari anche di altri ingegneri in altri team e quindi questo è un fattore da non tenere in considerazione non è una cosa banale in più attenzione che questo andrà a movimentare il mercato secondo me Verstappen se vede i motori Mercedes così competitivi punta andare in Mercedes assolutamente e potrebbe essere sacrificato o Kimi Antonelli o Russell probabilmente più Russell che può andare in Red Bull però attenzione che potrebbe considerare Verstappen anche l'opzione Honda nel caso e quindi Aston Martin nel caso Aston Martin si rivelasse un team in lotta per il titolo al posto magari di un Fernando Alonso che si ritira nel mentre quindi queste qua sono le due opzioni più probabili secondo me quindi vedremo un po' come si evolverà questa situazione ditemi anche voi nei commenti cosa ne pensate del Garden in Live se va mantenuto in Formula 1 dell'arrivo dei nuovi ingegneri in Ferrari provenienti dal PIN e quindi da Renault ditemi anche cosa ne pensate dei motori Mercedes per il 2026 e del mercato piloti sono curioso di leggere rispondere a tutti i vostri commenti ne parliamo qui sotto sbilanciatevi dite la vostra opinione anche sono curioso di saperla ovviamente vi ricordo di lasciare un like di iscrivervi attivare le notifiche per non perdervi nessun video che ci puoi sul canale ogni settimana andiamo a vedere tutte le notizie a tema auto e Formula 1 e vi dico anche la mia opinione in merito e niente vi lascio altri video correlati qui per vederli sul canale e il logo del mio canale qui al centro per iscrivervi qui da Lastra è tutto ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video